Carissimi Ottoliner, avete finito di scartare i regali? Perché quest'anno un super regalo da scartare per tutti voi ce l'abbiamo pure noi! Ce l'ha lasciato qui in redazione ieri il compagno Babbo Natale, dispensatore di gioia e sobillatore di rivolte anticoloniali. Svegliatevi ragazzi, se non ci credete non può farvi niente! Ai 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 che male! Ed è il regalo che ogni sincero democratico si aspettava da decenni. L'inizio della fine dell'egemonia USA e della dittatura del dollaro. Come vi abbiamo già detto, durante questi giorni di festa Ottoliner TV si prende una piccola pausa che userà per investire una parte delle donazioni che ci avete fatto nei mesi passati per allestire alla meno peggio il nuovo studio. Nel frattempo continueremo a tenervi compagnia con dei piccoli mashup sui temi che a nostro avviso hanno caratterizzato quest'anno. Ora mettetevi comodi e gustatevi questa ricostruzione del fenomeno che probabilmente più di ogni altro caratterizzerà questo anno nei libri di storia futuri. Buona visione e che la festa continui! Come tutti saprete, il valore del dollaro negli ultimi mesi è cresciuto a dismisura. Nell'ultimo anno il dollar index, che indica l'andamento del dollaro nei confronti di un paniere di valute che va dallo yen al franco svizzero, è cresciuto del 23%, passando da 89 a 110 punti, il livello più elevato da 20 anni. Nel frattempo l'euro è passato da 1,22 a 0,29, perdendo oltre il 20%. Allo yen è andata pure peggio, meno 30%. Bello essere alleati degli americani. E non va meglio ai paesi emergenti. A livello globale, da gennaio, 36 valute hanno perso oltre il 10% sul dollaro e una decina oltre il 20%. Tutto merito della Fed, che soltanto tra marzo e luglio ha aumentato i tassi di 250 punti base e altri 75 sono in arrivo. E a pagarne le conseguenze sarà il resto del mondo. Oltre al gas liquido e agli armamenti che importiamo direttamente dagli USA, anche il grosso delle altre materie prime nel mondo è denominato in dollari. Se il dollaro sale, sale il costo di una bella fetta di quello che siamo costretti a importare. Un altro bel contributo alla nostra inflazione. È il modo che gli USA hanno per scaricare il costo dell'inflazione sugli altri. Lo si vede chiaramente da questo grafico. A gennaio 2022 gli USA erano già in piena crisi inflazionistica. L'Europa era messa decisamente meglio. Da lì in poi, mese dopo mese, si è fatto un passettino per invertire il rapporto. E da luglio ecco a voi il superamento. L'inflazione usa il retra e quella europea esplode e la supera. Prima di uno 0,4%, poi di un bello 0,7%. E siamo solo all'inizio. È soltanto l'ultimo capitolo della storia decennale della dittatura del dollaro. La lente che sin dall'inizio noi di Ottolina abbiamo ritenuto essere la più efficace per riuscire a dare una lettura coerente a tutto il marasma che ci è precipitato addosso. In particolare a partire dall'invasione russa dell'Ucraina. E qui, non ce ne vogliate, tocca andare di spiegone. E per farlo, come filo conduttore, utilizziamo un testo che a nostro avviso dovrebbero leggere tutti. Ma che invece non è manco tradotto in italiano. Si chiama Superimperialism. È di un economista americano, il professor Michael Hudson. Quando venne pubblicato la prima volta nel 1972, tra i funzionari del Dipartimento della Difesa di Washington, devenne un testo di culto e Hudson veniva invitato regolarmente a parlargliene di persona. Facevano fatica anche loro a comprendere fino in fondo il sofisticato meccanismo che avrebbe permesso agli USA di imporre il loro impero finanziario sul resto del mondo per i decenni successivi. Partiamo da capo. 1944. A guerra ancora in pieno svolgimento, si riuniscono in questa mena località del New Hampshire, chiamata Bretton Woods, i rappresentanti di 44 nazioni alleate. Gli usciranno 22 giorni dopo, con un accordo che prevedeva che tutte le valute fossero convertibili in dollari. Il dollaro fosse convertibile in oro a un tasso fisso di 35 dollari per oncia. Un sistema dollaro centrico, quindi, dove il grosso dei commerci internazionali avvenivano appunto in dollari, che però non potevano essere stampati a piacere, ma solo in base alle reali riserve e aure detenute dalla Federal Reserve. Questo è stato il sistema che è stato in vigore fino al 1971. In tutta questa fase, gli Stati Uniti avevano un debito pubblico irrisorio ed erano creditori netti rispetto agli altri paesi. Verso la fine degli anni Sessanta, però, la spesa pubblica americana comincia a salire e la bilancia commerciale degli USA comincia a cambiare di segno, in particolare a causa della guerra del Vietnam. Paesi come la Germania e ancora di più la Francia decidono di tenersi in pancia a meno dollari possibile e li cominciano a convertire in massa in oro. Questo significava per gli USA non essere più in grado di stampare moneta, proprio quando ne aveva più bisogno. E allora Nixon nel 1971 cosa fa? Unilateralmente decide che la convertibilità a tasso fisso del dollaro in oro deve finire. Per gli altri firmatari del trattato, un vero e proprio tradimento che permetteva agli USA di stampare moneta a piacere. Ma come fare a convincere gli altri paesi a continuare comunque ad usarlo? La soluzione arriva ad ottobre del 1973, quando dietro pressione degli USA, l'OPEC, annuncia che il petrolio che vende può essere pagato solo ed esclusivamente in dollari. Ora, nessuno può e tantomeno poteva fare a meno del petrolio dell'OPEC e per comprare il petrolio prima doveva comprare dollari, che così continuano ad affermarsi come la moneta di riserva di ultima istanza di tutta l'economia globale. E così quando oggi vendi qualcosa fuori dai tuoi confini, in più delle volte vieni pagato in dollari. E quando incassi, porti i dollari alla banca centrale e li cambi nella tua moneta locale. A quel punto le casse della banca centrale si trovano piene di dollari. E cosa ci fanno? Li investono nei mercati finanziari americani. E qual è il principale prodotto dei mercati finanziari americani? I buoni del tesoro. Il debito americano. Quindi, più è grande il deficit della bilancia commerciale degli USA, più viene finanziato il debito americano. Chiamali scemi. Da allora il debito USA è esploso, dal 30% del 1971 a oltre il 130% di oggi. Ma soprattutto quello che è esploso è il debito netto degli USA nei confronti del resto del mondo, che nel 2021 ha raggiunto la cifra spropositata di 14.000 miliardi. Giusto per capire l'entità, il secondo paese al mondo col debito estero netto più grande è la Spagna, dove ammonta a poco più di 1.000 miliardi. E cosa ci fanno gli americani con tutti questi quattrini? La guerra! A volte vera, a volte solo minacciata. Gli USA spendono ogni anno poco meno del 4% del loro pillo in difesa e pesano per poco meno del 40% della spesa militare globale. La seconda è la Cina, che tanto allarma i nostri giornali per la sua poderosa corsa al riarmo e che però dedica alla difesa appena l'1,7% del suo pillo e pesa sulla spesa militare globale per meno del 14%. E perché gli americani hanno tutto questo bisogno di spendere tutti questi quattrini per la guerra? Visto che i nostri giornaloni non riuscivano a unire i puntini, a spiegarcelo ci ha pensato un generale dell'esercito di liberazione popolare cinese, Chao Liang, già celebre per un testo fondamentale di strategia militare, vecchio ormai oltre 25 anni, dal titolo Guerra senza fine e poi, caso più unico che raro per un militare, di questo snello ma fondamentale testo di politica economica, l'arco dell'impero. Secondo Chao, la forza militare degli USA è, a differenza degli imperi marittimi del passato, messa a disposizione della finanza e gli permette di manipolare a suo favore l'andamento del dollaro, scatenando periodicamente crisi regionali secondo uno schema preciso. Torniamo al 1971, non appena Nixon decreta la fine della convertibilità del dollaro in oro, gli USA si mettono a stampare dollari che si deprezzano. Questi dollari inondano gli altri paesi e in particolare l'America Latina. È il boom sudamericano degli anni 70 e dura fino al 1979, quando gli USA smettono di stampare moneta. Il dollaro si riapprezza, i dollari cominciano a rientrare negli USA e l'economia regionale accusa il colpo. E a tutti gli investitori del pianeta il Sud America non sembra più una buona regione dove investire. I capitali così rientrano in massa nei tre mercati finanziari USA e subito dopo, ad economia sudamericana ormai completamente devastata, tornano a fare shopping a prezzi d'occasione. Finita questa fase, ecco che si ritorna a deprezzare il dollaro. Siamo nel 1986, questa volta i capitali inondano il sud-est asiatico. È il famoso boom delle tigri asiatiche. Anche a questo giro, questa fase, dura una decina di anni, fino a quando nel 1997 Soros e il suo fondo Quantum decidono di scommettere sul crollo del bat tailandese. Nel frattempo la Fed torna ad alzare i tassi e così i capitali abbandonano l'Asia, rientrano negli USA, l'economia regionale collassa e quando raggiunge il fondo, ecco che i capitali ritornano a fare shopping a prezzi d'occasione. E ancora, 1999, 1999 nasce l'euro. Per la prima volta una moneta ha dietro un'economia comparabile a quella USA. All'epoca un euro vale 1,07 dollari. Dopo tre mesi gli USA decidono di bombardare Belgrado. Dopo 72 giorni di guerra, un euro vale 0,82 dollari. Nel frattempo, 400 miliardi sono fuggiti dall'Europa, ma questa volta solo 200 sono sbarcati negli USA. Altri 200 sono andati ad un... I giorni dopo, ecco l'incidente. Viene bombardata l'ambasciata cinese a Belgrado. Un errore, dicono, che fa sì che i 200 miliardi che erano approdati ad Hong Kong fuggano da quest'area, ora ritenuta instabile. E indovinate un po' per andare dove? Ma negli USA, ovviamente. Ma a te guarda a volte la fortuna. Arriviamo poi a novembre del 2000. Saddam Hussein annuncia che avrebbe fatto pagare il suo petrolio in euro. Non ha fatto una bella fine. E ancora, settembre 2001. Attacco alle Torri Gemelle. Questa volta, ad essere considerati instabili, sono gli stessi USA e 300 miliardi fuggono via. Nemmeno un mese dopo, gli USA invadono l'Afghanistan con una fretta che, secondo Chow, è piuttosto sospetta e che non ha neanche permesso di preparare adeguatamente l'attacco. Tant'è che, nonostante l'inconsistenza del nemico, dopo poco, si sono ritrovati senza più missili cruise e, per andare avanti, sono stati addirittura costretti a rimuovere le testate nucleari da mille missili per sostituirle con testate convenzionali. Ma già solo il primo giorno dell'attacco, il Dow Jones ha ripreso 600 punti e, nel giro di poco, erano rientrate negli USA 400 miliardi. Insomma, secondo Chow, le guerre senza fine del Pentagono sono in realtà progettate per garantire che non solo i dollari fluiscano senza problemi fuori dal paese sotto forma di cessioni finanziarie e di crediti, ma anche che il capitale movimento nel mondo a un certo punto torni negli Stati Uniti. Ora, di questa cosa Russia e Cina sembrano essere piuttosto consapevoli e, già nel dicembre 2021, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno sottolineato l'esigenza di accelerare il processo di formazione di strutture finanziarie indipendenti al servizio degli scambi di Russia e Cina. In passato, a chi ha provato a costruire aree di libero scambio regionali che utilizzassero monete diverse dal dollaro, non è andata benissimo. L'alleanza Sudan-Libia-Egitto sotto le leadership combinate di Mubarak, Gheddafi e Bashir si era mossa per stabilire un nuovo sistema finanziario sostenuto dall'oro al di fuori del dominio di fondo monetario e banca mondiale per finanziare lo sviluppo su larga scala in Africa. Gheddafi è stato barbaramente assassinato, il Sudan smembrato e Mubarak costretto a dimettersi e poi condannato all'ergastolo. Ora, rispetto a questo primo progetto panafricano, il processo storico di integrazione eurasiatica di cui vi abbiamo parlato svariate volte è ovviamente una cosa enormemente più grande e anche pericolosa per gli Stati Uniti. Se l'ultima volta per così poco è partito l'attacco alla Libia, oggi ci possiamo già ritenere fortunati che l'unica guerra guerreggiata sia quella tutto sommato a bassa intensità che si sta combattendo in Ucraina che infatti penso ormai ci siano pochi dubbi a riguardo non è che l'antipasto. Queste sono le immagini dell'arrivo dell'altro giorno di Xi Jinping a Riyadh. Colpi di cannone, mega show dei jet delle forze aeree reali saudite, il saluto ufficiale della Guardia d'Onore. A luglio quando la stessa gita fuori porta l'aveva fatta Sleepy Joe dava più l'impressione dell'accoglienza che si riserva al cugino un po' sciroccato che speravamo di non vedere più e che fa entrare in casa solo perché se no zia poi ci rimane male. D'altronde allora c'era da aspettarselo. Qualche mese prima Biden aveva provato a chiamarle al telefono e questi manco se erano degnati di rispondere e i vecchi assetti di potere cominciano a traballare o almeno si comincia a intravedere la possibilità di qualche alternativa a partire da quello che tra tutti i dispositivi di dominio è probabilmente il più insidioso e anche il più deleterio la dittatura del dollaro per lanciare la bordata Xi Jinping ha atteso l'ultimo istante della sua trasferta la Cina continuerà a importare grosse quantità di petrolio e di gas liquido dai paesi del golfo e useremo al massimo la piazza di Shanghai lo Shanghai Petroleum and National Gas Exchange come piattaforma per stabilire contrattazioni di gas e petrolio in Yuan ha affermato qualcuno l'ha già denominata la rivoluzione dei petro Yuan è decisamente prematuro ma potrebbe effettivamente essere uno di quei momenti che segnano un salto di qualità d'altronde è proprio qua che nel 1973 nasce la dittatura del dollaro per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi a Riyadh quando li usa nel bel mezzo della prima crisi petrolifera riescono a convincere i paesi produttori a continuare ad usare il dollaro come unica valuta per le transazioni commerciali internazionali nonostante due anni prima Nixon avesse unilateralmente deciso di sganciarla dal cambio fisso con l'oro e quindi non ci fosse sostanzialmente più motivo per continuare a considerarla la valuta di riserva universale è la nascita dei petrodollari perché i paesi produttori abbiano accettato allora quella decisione rimane ancora oggi sostanzialmente un mistero le conseguenze che ha avuto invece ormai sono chiare a tutti gli usa per la prima volta nella storia dell'economia mondiale si trovano tra le mani una moneta che possono stampare a proprio piacimento ma che ciò nonostante continua ad essere universalmente accettata come valuta di riserva e di scambio internazionale questa cosa permette agli usa di scaricare sistematicamente il costo del loro sistema economicamente del tutto inefficiente sul resto del pianeta nei confronti del quale hanno contratto un debito netto che ormai supera i 14 mila miliardi di dollari cioè quasi il doppio del debito netto contratto da tutti gli altri paesi del mondo messi assieme e finanziato in gran parte dalle principali potenze manifatturiere del pianeta come la Germania il Giappone o la Cina e dai paesi ricchi di materie prime come appunto l'Arabia Saudita o la Russia questi paesi detengono una quantità gigantesca di riserve in dollari e quando diventano antipatici per qualche motivo agli usa li vengono congelati l'ultimo caso riguarda proprio la Russia 350 miliardi di riserve estere in dollari congelati e che ora addirittura qualche simpatico parlamentare inglese propone di cominciare ad usare per finanziare la guerra che gli stanno facendo contro prima della Russia era successa all'Iran al Venezuela all'Arabia Saudita